segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te voi avete dedicato ampio spazio al caso tanto anche come quotidiano domani sì oggi abbiamo in prima un pezzo del collega giovanni tizian che come sempre insomma arriva arriva prima e ci racconta anche tutto quello che magari non è ancora di dominio pubblico insomma quindi un retroscena su quello che davvero sta succedendo in procura a proposito degli affari santa anche a questo punto la ministra deve fare un po i conti con la realtà oggi andrà probabilmente su una sfaccettatura più politica della vicenda spiegherà come è difficile fare l'imprenditrice come appunto lei stessa non sia stata mai coinvolta attivamente in quegli affari lì c'è una questione di opportunità oggettivamente con cui giorgia meloni deve fare i conti anche perché la lega abbiamo visto che ha fatto prima è stata piuttosto aggressiva nei confronti di santa anche poi ha fatto un passo indietro d'altra parte anche in fratelli d'italia c'è un comunque un ala del partito che vive santa anche un po come un innesto ci sono dei temi con cui meloni deve fare i conti oggettivamente cioè quindi dal tuo punto di vista che dovrebbe fare la santa anche fare un passo indietro di anche per coerenza con quello che ha chiesto il suo al suo partito in altre occasioni lucaselli sentiamo